buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 20 novembre 2023 iniziamo insieme la settimana dando un'occhiata ai giornali il resto del carlino il corriere adriatico sulle pagine locali e vediamo subito il santo del giorno oggi si festeggia sant'edmundo ecco qui sant'edmundo lo vediamo nella grafica re degli angli orientali visse nel nono secolo ebbene era figlio del re alcmund di sassonia adottato dal re dell'ist anglia ecco perché dalla sassonia ovvero dalla germania fu re degli inglesi allora non si potevano chiamare inglesi perché l'inghilterra ancora era spezzettata in diversi regni comunque lui era il re dell'anglia fu l'ultimo re di questo territorio combatté infatti contro i danesi che volevano saccheggiare la sua terra fu però sconfitto fu fatto prigioniero e i vincitori che erano presso a poco vichinghi quindi avevano un'altra fede un'altra fede religiosa gli offrirono salva la vita se lui stesso rinunciasse avesse rinunciato alla sua fede ma edmondo disse di no e per questo punto fu martirizzato fu ucciso traffitto dalle frecce sant'edmundo ecco perché sant'edmundo è negli altari e divenne un po' la bandiera per il riscatto di tutta l'inghilterra che poi riuscire insomma a sconfiggere a ributtare indietro gli invasori vediamo ora le previsioni del tempo cieli in prevalenza poco nuvolosi questa mattina ma anche nel pomeriggio quindi per l'intera giornata salvo la presenza di qualche addensamento serale i venti saranno al mattino deboli al pomeriggio moderati il mare è calmo il sole sorge alle 7 e 14 e tramonta alle 10 e 37 la temperatura 10 gradi la minima 18 la massima ancora ci manteniamo in un clima temperato ed ora diamo un'occhiata ai giornali che stamattina passiamo come sempre come tutti i lunedì ormai sulla prima pagina del resto del carlino come sintesi delle notizie pubblicate all'interno e vediamo subito la pagina di pesaro dove vediamo che c'è stato un po' un problema per quanto riguarda i divieti di sosta non osservati ieri a pesaro c'era mercato c'era l'esigenza di far posto a tante bancarelle ma molti operatori hanno trovato il loro spazio occupato dalle auto ecco perché hanno chiamato i vigili e i vigili hanno attuato la rimozione forzata delle auto in sosta strage delle auto rimozioni a go go carroattrezzi scatenato in piazzale carducci nella giornata di ieri altre notizie riguardano villa marina c'è un contraddittorio tra coloro che dicono che villa marina questo grande edificio che in viale trieste debba essere abbattuto altri dicono che deve essere salvato perché è un segno di un'architettura particolarmente importante una testimonianza di un architetto poi quello che appunto la re quello quello che redasse il progetto che è una un simbolo architettonico importante che poi è stato replicato anche in altre occasioni e poi a fano si è svolta la 35esima edizione di una iniziativa enogastronomico di eccezionale importanza sapori e aromi d'autunno una sinfonia di prodotti di alta qualità prodotti dall'autunno da questa stagione che a lungi di essere una stagione sterile triste e melanconica e invece molto molto prolifica di prodotti di enogastronomia ed ora diamo un'occhiata anche ai titoli delle altre province in ancona abbiamo le indagini della ragazzina bengalese sulla ragazzina bengalese che sembra ormai si sia gettata volontariamente dal balcone della sua casa la ragazzina suicida eccola qua non era incinta ma voleva vivere alla italiana e anche qui è un altro ennesimo caso di una cultura che impone delle decisioni ai ragazzi i quali invece vogliono vivere in un clima di libertà caccia ai cani senza guinzaglio blitz in spiaggia dei vigili sempre da falconara a palombina quindi un litorale che è stato controllato dalla polizia locale mentre sempre sul fronte della enogastronomia abbiamo la manifestazione coco marche che chiude in bellezza con 50.000 visitatori un weekend tra virgolette dolcissimo dolcissimo ed ora andiamo ad ascoli e fermo in lacrime per giuglia sfila in piazza la rabbia delle donne e prossima ormai la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e questo ennesimo caso di femminicidio ha scosso veramente il cuore di tutti gli italiani dopo l'ultimo femminicidio ancora si continuano a uccidere le donne sono più di vittime di questo atto di violenza dall'inizio dell'anno la cgl piange cesare massaccesi faro del sindacato e poi abbiamo i controlli i controlli effettuati dalla polstrada durante il weekend controlli su chi guida ubriaco col telefonino multe e patenti ritirata a macerata abbiamo la fotografia di tamberi la grande atleta del salto in altro che ora riceve la cittadinanza onoraria perché pur essendo un anconitano di fatto è nato nell'ospedale di civita nova e poi ai giardini delle fosse c'è un parco degradato e qui c'è l'ira delle mamme che frequentano con i loro bambini questo posto che dicono un quartiere di serie b disabili protagonisti sempre a macerata va in scena l'inclusione a teatro cadono tutte le barriere abbiamo fatto una panoramica delle province marchigiane apriamo il giornale all'interno e vediamo qualche approfondimento sulla provincia di pesaro urbino ecco qua l'articolo un grande articolo vogliamo dire che occupa più di mezza pagina sul resto del carlino per quanto riguarda villa marina allora il titolo villa marina che farci c'è chi chiede di abbatterla che è solo un lanzichenecco parla così l'ingegnere abramo fenici che interviene sul destino della colonia di viale trieste definendola un progetto emblema un progetto che deve essere salvato perché fa scuola a tanti tanti architetti ebbene fu frutto dell'abilità dell'architetto mochi negli anni 30 negli anni 20 1926 mochi ebbe l'ardire la capacità ingegneristica di ideare costruire dei solai molto particolari allora usare il cemento armato non era tanto facile ebbene mochi ebbe l'abilità di utilizzare questa nuova forma di architettura costruendo dei solai a cassettoni veramente avveniristici per l'epoca solai ad armature incrociate in quanto appunto in tessuti ed armati secondo le due direzioni principali e fu un elemento ingegneristico tecnico di grande importanza tutto questo permise la realizzazione di grandi saloni senza colonne nel mezzo che diedero ospitalità sono scaloni da 12 metri per 12 quindi sono veramente molto grandi che diedero disponibilità a 28 letti per appunto i convittori quelli che stavano a Villa Marina un decoroso spazio di 28 letti oltre a quello preposto alla sorviglianza poi c'erano oltre i convittori quelli che frequentavano la colonia durante i mesi estivi e poi c'è un ampio spazio per altri 28 banchi quindi sono ampi saloni che architettonicamente sono stati fatti con strutture molto molto pregevoli ecco perché secondo l'ingegner Abramo Fenici quella è una struttura da non abbattere nonostante che ci fossero due altri architetti pesaresi come gli architetti Gaudenzi e Pradarelli che sono molto noti in città che dicono che bisogna abbattere e poi ricostruire a fondo pagina abbiamo un caso pietoso da oggi sono un senza tetto cerco lavoro e sono disposto a fare tutto si tratta di Giuseppe del Sole 59 anni che dal 2013 stando al suo racconto non lavora e non ha più una casa guardate bene l'età di questa persona 59 anni 59 anni non è molto lontano dalla pensione ma trovare lavoro a questa età è veramente un problema è molto molto difficile Giuseppe del Sole dorme all'aperto ha dormito sotto i portici di Palazzo Ducale a Pesaro in Piazza del Popolo insomma ha avuto tante traversie la ditta per la quale lavorava ha dovuto chiudere i battenti da allora non ha trovato nonostante tutta la buona volontà tutte le iniziative che ha attuato non ha trovato un posto di lavoro alternativo ed ora vive un po' e vive in una maniera molto molto precaria ha fatto tanti lavori nella sua vita è stato addetto alla vigilanza nei musei, nelle chiese, negli edifici comunali sia in Italia che all'estero ha fatto l'addetto alle consegne, l'autista, il collaboratore scolastico, l'operaio ebbene chiunque potesse offrire un posto di lavoro a questa persona può telefonare, in questo momento è ospitato a casa Mariolina di Pesaro può contattare appunto la casa al numero di telefono 345 472 6025 ripeto il numero 34 47 26 0 25 la fabbrica delle rimozioni adesso passiamo ai quei divieti di sosta che ho annunciato e non sono stati rispettati in piazzale Carducci Carlo Attrezzi scatenato questa volta ha fatto tante tante multe si doveva così lasciare libera la sosta, gli spazi sosta per fare spazio alle bancarelle però molti hanno, o non si sono accorti del divieto oppure hanno detto ma tentiamo la sorte ugualmente ebbene 12 auto sono state tolte, sono state portate via insomma dal carro Atrezzi ebbene per recuperarle si deve pagare 100 euro per il carro Atrezzi per il servizio e poi altri 20 euro di multa quindi è stata una multa particolarmente severa oltre 20 multe poi con minaccia di rimozione sono state fatte l'altro ieri in Viale Trieste lato Levante tra la palla di Pomodoro e il Casco quindi una raffica di contravigili scatenati insomma a Pesaro però bisogna veramente osservare il codice perché altrimenti si incorre ed è molto probabile diciamo al 100% no, 98 beh insomma è molto probabile che si paghino delle multe è stata vista a San Giovanni in Marignano la donna di 35 anni che è fuggita dal reparto di psichiatria di Pesaro il padre nessuno però l'ha fermata si tratta di Sara Tommassini ecco qui la vediamo con il volto sorridente Sara Tommassini è ancora introvabile ma qualcuno l'ha vista a San Giovanni in Marignano lo rivela il papà Cosimo è arrivata questa segnalazione ha detto ma purtroppo nessuno ha potuto fermarla o almeno chiamare il 112 comprendo le paure ma si possono fare gesti in sicurezza che possono aiutarci insomma non c'è bisogno di intervenire però si può insomma se la si nota questa signora che ha bisogno di assistenza si può chiamare il 112 insomma o avvisare direttamente in altro modo le forze dell'ordine e poi c'è un addio un addio nella chiesa di Loreto a Pesaro addio a Tonino Bertozzini lavorò 50 anni con il notaio fu una colonna dello studio Ferri ecco qui vediamo una foto di Antonio Bertozzini per tutti Tonino l'addio oggi alle ore 15 nella parrocchia di Loreto non risponde al telefono trovato morto un 73enne è stato trovato deceduto dopo l'intervento dei vigili del fuoco che erano stati chiamati perché di lui non si aveva più notizia in piazzale Lazzarini le cause dopo gli esami i medici che sono stati fatti dal medico del 118 vengono attribuite a cause naturali si parla di un probabile infarto non sono state chiamate le forze dell'ordine perché non vi era alcun dubbio su ciò che vi era che è stato accaduto voglio segnalarvi anche questo fatto di Pesaro di Difano scusate perché ieri si è svolta questa importante manifestazione al Codma al Via Sapori e Aromi la prima è veramente un successo la Kermesse sarà replicata domenica prossima sugli allori le bontà locali dicevo che sono tante e tante le bontà locale dai tartufi ai funghi alla frutta castagne, uva, olive pere angeliche nespole insomma veramente ce n'erano di tante varietà di tutti i colori di tutti i profumi di tutti gli aromi ieri al Codma una manifestazione importante ricca di presenza di molte autorità qui sul resto del Carlino vediamo il taglio del nastro fatto dal sindaco Massimo Seri accanto lui abbiamo il presidente della provincia Giuseppe Paolini la regione era rappresentata dall'assessore Stefano Aguzzi e dal consigliere regionale Luca Serfilippi c'erano tante altre personalità che poi hanno premiato coloro che si sono distinti con il premio Marche Nostre per la promozione e per elevare la qualità dei nostri prodotti e vediamo chi ha ricevuto questo prestigioso premio che è stato istituito in collaborazione tra il Comune di Fano e l'Associazione I viandanti dei sapori di Giorgio Sorcinelli e di Francesco Fragomeno è una combinazione che veramente individua le persone che hanno collaborato molto per promuovere oltre ai prodotti oltre il lavoro anche la città di Fano e chi sono? vediamo sono Alberto Melagrana chef e titolare del ristorante Antico Furlo Daniele Sanchioni funzionario della CIA di Fano Amerigo Varotti direttore provinciale della COF Commercio Gianfranco Mazzanti Gianfranco Mazzanti presidente della fondazione agraria Cante di Montevecchio poi abbiamo anche Anarita Ioni direttore responsabile di Radio Fano e poi un premio anche al Comune di Fano al Comune di Fano in modo particolare a Samuele all'assessore Samuele Mascherin titolare della delega dei servizi educativi per il bellissimo risultato ottenuto a livello nazionale per la qualità delle mense scolastiche primo posto a livello nazionale su 55 città concorrenti quindi un risultato veramente prestigioso per la città di Fano a Piobbico scivola nel dirupo un escursionista salvo dopo ore ieri mattina alla balza della penna sul Monte Nerone è stato portato comunque per sicurezza aveva qualche acciacco all'ospedale di Torrette di Ancona si tratta di un sessantenne di San Giovanni in Marignano che è precipitato per 4 o 5 metri in un derupo fratturandosi una spalla e battendo la testa quindi però per fortuna non è in pericolo di vita chiudiamo ora il resto del Carlino e diamo un'occhiata al Corriere Adriatico l'apertura è data dalla politica allarghiamo il centro-sinistra ma nessuno adesso metta dei voti lo dice il segretario del Partito Democratico Renato Claudio Minardi che annuncia a giorni la prima riunione di Campolargo una riunione che dovrebbe riunire costituire una grande coalizione di tutti i partiti del centro-sinistra c'erano dei partiti che reggono il comune sono dei partiti che reggono il comune da ormai dieci anni ma c'erano altri che si riconoscono sempre contrari al centro-destra che si erano dissociati ora si cerca un po' di coinvolgerli tutti vogliamo allargare l'alleanza di centro-sinistra che governa la città alle altre forze progressiste e riformiste afferma Renato Minardi rivendico al mio partito che è il primo dell'attuale maggioranza il ruolo di cerniera per cercare di realizzare la più ampia coalizione possibile insomma il centro-sinistra ha capito che se non riesce a raggiungere la unità di tutte le forze che fanno parte di questo settore difficilmente potrà contrastare l'avanzata del centro-destra sull'onda dei successi poi ottenuti dal governo Meloni le vie Bellandra e Soncino restano pericolose la protesta dei residenti per quanto riguarda la viabilità di questo quartiere che è stato assunto come modello in via di sperimentazione per la sicurezza dall'amministrazione comunale sembra che molti provvedimenti assunti dal comune non siano affatto graditi da questi residenti che insomma sono poco propensi ad apprezzare le novità soprattutto secondo quanto hanno detto in una riunione che è stata organizzata da fratelli d'Italia dovrebbero essere istituite a senso unico le vie Bellandra e via Galileo Galilei che sono quelle più pericolose magari anche per la poca ampiezza della careggiata prodotti prelibati dell'autunno uniti alla cura dell'alimentazione apre al Codma la mostra a mercato sapori e aromi consegnati premi marche nostre abbiamo parlato dei premi che sono stati attribuiti a sapori e aromi d'autunno ma vediamo anche la novità che ha così caratterizzato questa 35esima edizione la novità è stata data dalla partecipazione dell'AST ovvero dell'azienda sanitaria territoriale presente con uno stand dedicato all'alimentazione corretta per grandi e per bambini soprattutto c'era anche presente il primario di pediatria di Marche Nord e c'era anche uno stand di Simitu ovvero dell'associazione che riunisce i pazienti che hanno usufruito della cura delle ferite difficili quelle ferite che sono insidiose che sono così dolorose perché difficili a rimarginarsi ebbene Marche Nord possiede un laboratorio specializzato per quanto riguarda le piaghe da decubito quelle che vengono le ferite da diabete insomma tutte queste cose così antipatiche che poi rendono difficile la vita di chi purtroppo affronta questa situazione ebbene in questo laboratorio si ottengono risultati veramente apprezzabili teste diabetici a rischio più della metà dei soggetti anche questo è un tema di carattere sanitario molto molto importante si è svolta la giornata sabato scorso contro il diabete e anche questa è una malattia che non dà sintomi e per questo è ancora più difficile da scoprire se non durante questi screening che vengono fatti della popolazione preoccupante l'esito dei controlli su oltre 200 persone al Fano Center quasi il 60% che si sono sottoposte allo screening ha evidenziato un altissimo rischio di contrarre il diabete di tipo 2 in quanto in sovrappeso alcuni hanno manifestato una obesità di primo grado insomma bisogna dimagrire e bisogna fare una vita attiva non sedentaria fatta di ginnastica di passeggiate in modo da attivare veramente un sistema biologico corretto terre roveresche ingiunzione di pagamento per un debito fuori bilancio un'inginzione di pagamento particolare che viene fatta al Comune il Comune non ha pagato il Comune sborsa anche le spese legali e interessi per i lavori alla scuola di San Giorgio bronzi dorati e tartufo promossi a Parigi anche l'assessora Santelli di Pergola alla settimana della cucina italiana ebbene una vetrina veramente di promozione per il territorio polentari di tutta Italia si ritrovano a San Costanza ospiti della Proloco l'unione nata 30 anni fa ebbene chissà che anche i polentari di altre località hanno avuto l'occasione di assaggiare la polenta di San Costanzo e veniamo a Senigallia giunta Tommassoni in panchina ma avrà la delega al turismo doveva entrare al posto dell'assessore Abizzarri il sindaco valorizzato il suo ruolo in consiglio eccola qua la consigliera Silvia Tommassoni che per lei è in arrivo una delega che riguarda il settore del turismo un settore molto molto importante per Senigallia che su questo settore fonda molto della sua attività economica questo per quanto riguarda i giornali con cronaca voglio solo segnalarvi prima di chiudere ma siamo in chiusura le notizie di sport per quanto riguarda la giornata la giornata il weekend voglio dire vediamo subito la vis eccola qua sfida a una grande torre se serve una partita concreta qui abbiamo il posticipo della gara alle 18.30 di oggi sarà in diretta anche su Rai Sport e vediamo anche il Fano calcio due spulsi e niente reti 0-0 contro l'Atletico Ascoli Atletico e Fano pari in tutto quindi c'è stata una partita con poche sorprese e forse anche con poche azioni questo è tutto per oggi chiudiamo i nostri giornali non possiamo parlarvi di Sinner perché poi tutti ne hanno parlato in abbondanza peccato per questo risultato che forse noi aspettavamo diverso grazie per l'ascolto ci risentiamo domani buona giornata grazie a tutti